Dicevo sciocchezze, Paola, nell'attesa di te! È arrivata! Potete dire cosa ho detto di bello di lei? Ma no, ma non lo state a sentire, adesso lui imbastisce. Ha parlato benissimo di te. No, sembra chissà che facciamo. No, 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 ci sta raccontando. Innanzitutto, ben svegliata, vuoi un caffè? Allora, ragazzi, io sono un po' stanca, lo ammetto, sono molto felice, ma sono stanca. Sto facendo delle prove teatrali. Il pomeriggio, poi la sera questo signore mi porta in scena... Stai facendo delle prove di un altro spettacolo? Di un altro spettacolo, con la regia di Farsan, che ti potrà a gennaio. Sì, sei quello che l'avevo rimproverato anche io. Stai anche girando tre film, due fiction. No, non è vero, questo non è vero. Posso dire che qualsiasi cosa sta facendo è ampiamente meritata, perché Paola ogni volta fa cose splendide, come del resto si può dire lo stesso di Emilio. Solo una cosa a sbagliare ha fatto Paola, il Social Club. Solo quello ha fatto, poi il resto era tutto... Per un periodo ha prestato la sua opera anche al Social Club. No, è stato bello, è stato bello. È stato un momento difficile della sua vita. Sì, sai quei momenti che tu dici, vabbè, poi finiscono. In ogni carriera ci sono albi e bassi. Per fortuna tutto pasto. Esatto, esatto, esatto. Senti, ma non ti sbagli sul palco? Non hai paura di sbagliare? Spettacolo. Facendo le prove il pomeriggio? No, no, beh, no, è impossibile, è impossibile. E poi questa commedia, noi la portiamo vivacemente in giro per l'Italia. Insomma, da tanto tempo siamo alla centoquattresima replica, giusto? Quindi un po' andiamo in automatico. Diretti da Joelle Dix? Sì, esatto. Com'è essere diretti da Joelle Dix? È autoritario? È autorevole, è autorevole. È autorevole, questo lo possiamo dire, è anche molto amorevole, ci ama molto. Però lui tira fuori quel suo lato milanese del nord, quindi quella precisione, quella... Infatti quando Paola arriva in ritardo lui si stranisce un po'. No, Joelle è proprio stata una mano santa per questo spettacolo, lui non vedeva l'ora, devo dire, di lavorare con noi, ha amato moltissimo questo testo. Ci sono stati momenti di automobilista incazzato nelle prove? Sì, sì, ma... Io lo immagino solo così, Joelle Dix, non riesco a vederlo nato, io lo vedo con gli occhiali da sole alle prove... Sì, ma comunque mediamente quello che gli succede, tutte le volte che viene alle prove deve parcheggiarlo. Senti, so che una sera in prima fila c'era Giorgia Meloni che l'è venuta a vedere. No, questo quando? L'anno scorso forse? Sì, sì, non è venuta dietro a salutarci. Due partite, no, lei mi viene a vedere spesso, devo dire, da quando ho iniziato a imitarla e sono stata la prima a imitare la Meloni, è diventata mia fan, devo dire, è molto simpatica. Grande fair play comunque. Vedermi, sì, è grande fair play, anche se, insomma, chiaramente poi le opinioni politiche sono diverse, no? Però è una donna intelligente. Ah, perché lei ha delle opinioni politiche? Ma adesso, sì, mi sembra di sì, anche piuttosto espresse anche... Non sapevo, non sapevo. Infatti il problema suo è più un problema di identità, in questo momento evidentemente non sa bene chi è e quindi ha bisogno di dire, io sono Giorgia, io sono una femmina, io sono una madre, io sono una sacciaci! C'è ne dove uno, c'è ne dove due! È partita la cassa, i quattro, senti? È partito il maestro. Sì, perché sta andando, adesso ormai sta impazzando veramente il suo tormentone. Invece voglio sapere se si sono sciolti gli Oasis. Gli Oasis si sono sciolti e quando si sono sciolti gli Oasis si sono riuniti gli Oasis! Oasis, per chi non lo sapesse, quei pochi che non lo sanno, sono la parodia in salsa Molfettese del duo ben più famoso, gli Oasis. Io spero che loro continuino a non saperlo, voglio dire che in Puglia esiste questo fenomeno. I fratelli Gallagher. I fratelli Gallagher di Molfetta. Tutti i fan degli Oasis sono in lutto perché il gruppo purtroppo si è sciolto lasciandoci orfani, insomma, dei loro concerti e dei loro nuovi dischi. Però c'è da dire che di contro, in casa nostra, gli Oasis sono rimasti coesi e quindi noi oggi abbiamo i coesis. Abbiamo questa opportunità di sentire dal vivo una canzone di gli Oasis. Non ho capito niente fino ad adesso. Ormai è soltanto Che causa sta a me fanno T'ho a casa T'ho a casa mai Cosa tua o casa mia Questa ho capito Per mai non c'està un problema E c'è bocchia paena Ma non fatica E hai a engaura A engaura la chiacchia Ma ho voglio sapere Che n'ho già mai spessato Non c'è nulla da mangiare La luce e il gas La dobbiamo pagare Questo ho capito Uguale Che causa sta a me fanno T'ho a casa T'ho a casa T'ho a casa mai Ma mai non c'està un problema E c'è bocchia paena Ma non fatica E hai a engaura A engaura la chiacchia Ma ho voglio sapere Che n'ho già mai spessato C'è bocchia paena C'è bocchia paena E ho voglio sapere Che c'è bocchia paena M'è mangiata Poi La la oceo Gost E' già un successo E' una hit Chi non si riconosce in queste note E anche in queste parole Chi non ha da pagare la bolletta della luce Molto bellissimo Molto bellissima Questi cinque mesi che ho fatto Il mio sport preferito Insultarlo Sei peggio di scassa la minchia La mia fan numero 1 La scassa la minchia Luca sono una tua fan Luca io lo sai che io vivo per te Io faccio tutto per te Anche tu fai tutto grazie a me Luca Ma che cosa? Quei soldini che ti sei messo da parte E' grazie a noi fan In parte è vero Ecco no non in parte è tutto vero Luca Perché io ti seguo da quando ero piccola Io ho sentito tutte le tue canzoni Che a un certo punto ho cominciato a ripetere A rimettere riavviare Meno mai hai fatto l'ultimo album Luca Ecco Allora io solo per questo Per la pazienza che ti porto Tu un favore me lo devi Io? Perché hai ascoltato le canzoni? No tu ti devi sposare Con mia cugina Maria Rosa Ma no Perché? Lei ha 76 anni Ti ama Ti ama E' una donna finita E una tu gli devi solo Gli devi passare una notte con lei La sposi E poi dopo la lasci Tanto lei è contenta così Me lo devi Luca Ma come te lo devi? Un matrimonio riparatore E io sono tua fan Luca E beh ma non è che uno sposa Tutte le lezie dei fan Grazie Grazie Radio 2 Grazie Grazie a tutti.